I fan speravano da tempo che il loro amore cinematografico diventasse realtà, tanto da averli già ribattezzati Tondaia. Ora arriva la conferma, grazie ad un video pubblicato da Page Six che testimonia un romantico bacio in macchina tra i due attori protagonisti di Spider-Man Homecoming. Fermi ad un semaforo rosso tra le strade di Los Angeles. La loro complicità non lascia spazio a dubbi, i due sembrerebbero ormai essere una coppia. Tom Allen e Zendaya pizzicate durante una romantica pomiciata in macchina, fermi ad un semaforo rosso sulle strade di Los Angeles. Al tramonto. Le voci su una possibile storia d'amore tra i due co-protagonisti di Spider-Man Homecoming si rincorrevano da tempo. Tanto che i fan li avevano già da tempo ribattezzati Tondaia. Dopo qualche avvistamento furtivo. Questa è la prima volta che i due attori vengono sorpresi insieme con la testimonianza del bacio. In un video pubblicato da Page Six si vede chiaramente Allen avvicinarsi all'attrice. Accarezzarle il mento e baciarla dolcemente. In tempi recenti Tom Allen e Zendaya erano stati pizzicati dai fotografi a Los Angeles. Nei pressi dell'abitazione che secondo Page Six dovrebbe appartenere alla madre dell'attrice. Secondo le voci dunque le cose tra i due si sarebbero già fatte piuttosto serie. Con tanto di presentazioni in famiglia. Sono stati molto attenti a tenere la loro relazione privata e lontano dagli occhi del pubblico. Ma sono andati in vacanza insieme e hanno cercato di passare più tempo possibile insieme. Aveva spifferato una fonte già nel 2017. All'epoca Allen aveva sminuito i rumors. Intervenendo sui social, sono anni che non vado in vacanza, aveva commentato ridendo. La vita sentimentale dell'attore volto di Spider-Man ha fatto parecchio parlare. Nonostante sia molto riservato e abbia sempre cercato di distinguere la vita privata da quella professionale. In tempi recenti Allen ha avuto una relazione con Olivia Bolton e fino al 2019 la coppia è stata avvistata insieme a New York. Un anno dopo il The Zoom ha spifferato che tra loro era finita e che avevano scelto di restare soltanto amici. In seguito, l'attore avrebbe iniziato a frequentare l'attrice Nadia Parkes, tanto che su Instagram era spuntata una foto insieme, si conoscevano da poco quando è iniziato il lockdown a Londra. Ha rivelato una fonte a daily mail. Si sono isolati insieme e questo ha reso la loro storia d'amore ancora più forte. Grazie a tutti! Grazie a tutti!